Hola io sono Marcos Groan e signori e signori bentornati in una nuova puntata della Techandicraft 4 Nell'ultima puntata abbiamo fatto il fuffo di fuffa e volevo far vedere una cosina che sta qua giù Che vi avevo detto? Che io ogni tanto salto i passaggi mentali ma non significa... Oh mio dio si è buggatissimo, vedete? 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 14 milioni di fuel? Prima non c'erano ragazzi Inoltre, vabbè, la nostra pozza qui ha fatto i suoi figliozzi, io li ho buttati qua dentro Ma in realtà ho visto arrivare un sacco di drop, di fruit drop, eccolo qua, guarda, giù i strop E quindi già stiamo a 8 milioni di frutta, non è vero, stavamo a 7 milioni e mezzo Perché questo è il barrel che già abbiamo utilizzato, ma comunque tutto va alla stragrande Tutto va alla stragrande e purtroppo, purtroppo io ho fatto una cosa ma non l'ho registrato Perché sono un babbeoide, ecco ho cliccato su anteprima streaming invece che avvia registrazione Ehm, ma va bene, ho la barba sempre più a virgola, perché un giorno dovrò andare da un barbiere Vedete che ho fatto? Vi faccio vedendo, non voglio andare nel void, grazie, è una cosa disdicevole Mettiamo 0 e... oddio, no vabbè, senza che vi faccio vedere questo Semplicemente qua sopra ho messo un altro bellissimo mob spawner della Draconic Evolution Della Draconic Evolution, si chiama? Draconic Evolution, giuro, giuro Giorginio Quindi quando non stiamo qui, malgrado questa farm quando ci stiamo è davvero davvero molto forte Quando non ci stiamo, tutta questa struttura che va a raccogliere liquid... ma non mori Le liquid essence e un sacchissimo di ender perlissime E questo nel dubbio qualcuno muore, perché alcuni compaiono abbastanza lontano Quindi nel dubbio qualcuno muoia, quindi si accumulano anche le treasure bag Che non è male, non è male affatto Abbiamo un flusso incredibilmente costante e godurioso di ender perl Questo perché? Perché avevo spiegato che volevo Ender perl... guardate 1500, anzi 15000 15500, 6, 7, 8, 9, 10, silenzio 11 15 Ok? Perché volevo andare a fare il generatore, uno dei generatori 64x64 della bellissima extra utilities Quindi andiamo a fare un ender generator Eccolo qua Si fa in questa maniera che sembra abbastanza facilissima Quindi andiamo a fare un layout Eccolo qui E secondo me, perfetto, ce lo fa Fando Ora abbiamo guadagnato 10 posti l'ultima volta Devo ancora decidere dove metterla Intanto mi sto praticando in altro Ma probabilmente come mi ha succedito un ragazzotto La farò A casa quell'altra Perché altrimenti succede un po' da crack Poi vogliamo fare quello da 8 E lui giustamente mi dice Ma io non ce l'ho questo Non ho mai pensato a metterlo in autocrafting Quello, perché effettivamente È un caso molto specifico Ma potrei farlo E infine Gli diciamo Amico BibbubGG Non me lo fa questo Strano Ender generator Uh ma io ce ne ho Perché ce ne ho 8 Ok, craftamene una per favore Sei bravissimissimo Ok Allora Per craftare quei cosi là Ci servivano questi qua Però non mi ricordo mai Che cosa Che cosa dobbiamo fando Quindi Come si chiamano Ender Ender generator Ender generator Ci serve questo Che si fa con un sacco di transfert node Transfert node che sicuramente noi abbiamo in autocrafting Vero? Col cazzo Da già la pupazza Bingata 10 10 sono molto pochi Sapete Sicuramente 10 sono più di 9 Però sono molto pochi lo stesso Ok 64 Già è un qualcosa di più accettabile Vi facciamo Così Stai pompando? Senti come tunza Ammazza quanto sei lento Fio mio Mentre quest'altro è Oh mio dio È un pezzo di bedrockium Quindi forse Ci stiamo Per farne uno Ci stiamo Pensavo di autocraftarlo Ma invece Visto che ci sto Non mi ricordo come si chiama quel coso Extra utility Nope Extra Extra U Extra U T Sì Eccolo Eccolo qua Allora Visto che ci stavo Volevo fare un altro di quei cose più grandissimissimi Che non è questo Oh è questo qui Dovrei poterne fare 12 12 è un buon numero Anche questo è sicuramente maggiore di 9 Già finito Cioè ogni volta devo togliertelo No C'è qualcosa che non va Che cosa ti serve Pico Pico Oh mi serve questo Ma che palle Ma che pallissima Andiamo a autocraftarlo Perché se no ogni volta Allora Transfer Nude Transfer Nude Transfer Nude Transfer Nude Transfer Nude Eccolo qui Che si fa con Nope Nope davvero Che si fa con questo Che si fa con questo Che si fa con questo Non ho un cazzo di niente Le brutte delusioni della vita Marcus Crone Ah No neanche questo Oh mio Ah ma gli serve Ma scusate Gli serviva Fammi un pochino Dai su veloce Oh caghei Adesso forse ci dovrebbero riuscire Aspettate Facciamo U3 di questi No Ehi fermati Blank pattern Dove stanno Eccole qua Le mettiamo in autocraft Sting queste Poi Ritorniamo qui Sui nostri passi E facciamo queste L'unica cosa Che non so Se ho questi qui No Gli speed dovrei averli Perfetto No 130 Ah giusto 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 Molecular Molecular Ok Vieni qui da paparino tuo Vieni qui da paparino tuo E ovviamente Dove ho messo Quello che mi serviva Però va bene lo stesso Ah no 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 Bread Fist Bread Bread Ma perché certe volte Fanno queste cose complicate Nel senso È tipo inutile Craft va Craft No 100 no Quanto ne facciamo 20 Vai Del pane Avevo proprio voglia Del pane Ok Perfetto Perfetto Ci mettiamo questo 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 No Via Vattene Questo 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 E questo Lottiamo Non lo so Però dovrebbe essere un po' più veloce adesso Ok Si sta fanno A una velocità Moderatamente lenta Andiamo a fare Ender Generator Quanti ce ne servono Di questi Ce ne servono altri 8 No Altri 7 Quindi dobbiamo Craftarne Incredibilmente 7 Raga Però ho ammissato La fornace L'Eisovender E questi Giustamente Perché li stiamo facendo L'Eisovender Non ho il crafting L'Eisovender E questo è Tipo Terribile Quindi andiamo A mettercelo Subitissimamente Voi lo vedete? No Perché sta nell'altra pagina Raga State sciacchi E beh basta che muovo crafti Chico Craftamelo Eccolo qui Bravissimo E davvero Io non ho il crafting Della fornace Non ho il crafting Della fornace Ma già l'ho detto Qualche altra volta Sta cosa Furnace Raga Mi si sono Consumati Gli altri spazi Siete contente Molecular E lo portiamo giù Eccoci qua Molto bene Ragazzi Molto bene Andiamo a vedere Quanti di questi fregnetti Mi ha fatto Undici Quindi quattordici Quindi io ce li butto Quattro Qui E voilà E facciamo E ci mettiamo un pezzo di Bedrockium Dov'è? Il Bedrock Eccolo Ok Però non me lo fa Ah perché lo vuole Dentro lì Adesso io peso tantissimo Perché c'ho un lingotto Di Bedrockione In mano Però gli possiamo dire Di fare Finalmente Blender Blender Generator Once again Sonsonson Che ne vogliamo Sette Sempre sette 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 sia lo dato Li sta fanno Li ha fatti? Io non li vedo No Uno Due Ah ok Perché sta craftando Quelli li manda dentro Al maturator E intanto di qua Togliamo questo crafting Bruttissimo E mettiamo questo crafting Altrettanto brutto E abbiamo un transferred node Hyper energy What's american boys Androgen radio Ne abbiamo cinque Stiamo aspettando soltanto te amico mio Ah ah Sei Continua così S-O-otto Non ho capito il sette che fine ha fatto Ma va bene minecraft Non ti preoccupare Quindi 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 Ziori E Ziori Abbiamo Un 64 Under Generator Allora per ora Visto che La tutta degli sboccio Con tutti questi Crafty che è di parta Per ora Andiamo un attimo Qui su Dove io Erroneamente Mi sono ricordato Adesso Ho fatto uno di questi Però Va bene lo stesso Tranquillo Marcos Ci buttiamo dentro questo Spatapim Diamo Un occhio Perché vi ricordo Che anche l'occhio Vuole la sua parte Ender 2560 Unidad Ok Cazzo quanto piotta Cazzo quanto scende Ender Vediamo un po' 4 5 8 4 5 6 7 4 5 6 Oh cazzo Sta accendendo 7 4 Rimane 94 Rimane 94 Uh Uh Perfetto È stabile Signori è stabile Su No sale anche di 1 Sta salendo Cioè Ne produciamo Molto più velocemente Cioè Molto più velocemente No Ma di quanto sta Ciucciando questo Fantastico Ora Prendiamo un esovender Prendiamone 10 Stai craftando Perfetto Andiamo a vedere Che differenza c'è Con questo Vediamo Da 2560 A Uguale Non cambia niente Dura anche di meno No Due secondi Ah Attenzione Cambia tantissimo Il secondaggio Invece di 0,4 Secondi Questo ci dura 2,4 Secondi Credo Più o meno Attenzione Perché è Molto Interessante Ma Comunque sia Noi possiamo fare Benissimo Così Metterci un Resonant Energy Cell Molto bene Qui che cosa abbiamo Abbiamo Zero energia Perché stavo finendo le patatozze Noi facciamo Facciamo così Vediamo l'energia fluire Non la vediamo Adesso la vediamo Adesso vediamo l'energia fluire Andiamo a prendere un Energy 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 Redstone flux E la buttiamo dentro Al nostro Bellissimo Energy output No Energia input In generatori Questa E la devi mandare Ah Sta salendo Scusi Sta salendo Ah perché la batteria è piena Cioè perché la batteria quell'altra è piena Ottimo Va bene Sono molto felice Che tutto questo sia Chi è Ok Non male Ragazzi Abbiamo l'energia Endermosa Endermosa E forse la renderemo Non soltanto Endermosa Forse faremo anche L'Aise of Ender Ma questo Tutto questo In un'altra puntata Della Tekken Bcraft Ragazzi Come al solito Datemi i vostri suggerimenti Ovviamente Non suggerite cose Di Endgame Perché come suggerisce il nome Beh poi se c'è l'Endgame Poi Il gioco finisce E invece andiamo a spulciarci Cosine Molto interessati Tra l'altro Ovviamente dovremo andare Oh sapete che vi dico Visto che abbiamo un sacco di Enderman E di Enderpearl Potremo iniziare a fare L'Enderman Liquid Per avere Perché 7 milioni Sono tantissimi Dobbiamo iniziare Visto che stiamo Intorno all'85 Siva puntata A fare tutti quei liquidi Un po' tosti Di sicuro Di sicuro Il ferro Non ci manca Sono 3 milioni 200 Non ci manca davvero Ragazzotti Come al solito Pollice in su E bella per voi Alla prossima